Io sono dell'Udinese e il prossimo anno vediamo cosa succede. Oggi un impegno difficile per il Bari per tenere testa a un Udinese che davanti sembra davvero straripante. Sì, è vero che l'Udinese sta in un momento molto molto buono, ma noi non stiamo in nostro meglio momento, ma speriamo di fare qualcosa di buono.